Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Sibasket, un'ora insieme per analizzare tutti i temi della palacanestro in una giornata molto importante per il basket italiano e per Sport Italia, visto che quest'oggi tanta palacanestro sui nostri teleschermi, due partite in diretta di Eurocup, subito dopo la fine di Sibasket alle 16 ci collegheremo con Salonico per l'importante sfida, seconda giornata della Last 32 di Eurocup con il PAOC che affronta la Foxtown Cantù, poi questa sera si replica ancora alle 20.30 con la sfida di Sibasket. La sfida di Salagozza che vedrà di fronte il CAI Salagozza alla Virtus Roma. Vi ricordo che potete come sempre interagire con noi durante Sibasket attraverso Twitter utilizzando l'hashtag Sibasket, un po' descrivendoci al nostro indirizzo Chiocciola TV dello Sport. Passo subito a presentarvi gli ospiti per questa ora insieme in cui ovviamente ci prepareremo anche e soprattutto le gare di Eurocup che seguiremo più tardi nel corso della giornata e comincio da Sabino Palermo di Basket Inside. Buon pomeriggio Matteo, buon pomeriggio a tutti. E tornato a trovarci anche Fabrizio Provera di Daily Basket, buon pomeriggio. Ciao Matteo, ciao a tutti gli amici a casa. Cominciamo allora a concentrarci sulla prima delle due gare che seguiremo cronologicamente in questo pomeriggio, quella che vede la Foxtown Cantù impegnata in trasferta sul campo del PAOC Salanico. Una gara importante e delicata per una Foxtown Cantù che ha ripreso a perdere purtroppo lo scorso weekend contro Roma dopo un momento positivo che l'aveva vista fra l'altro battere il Chimki la settimana scorsa forse nella prestazione offensiva migliore della stagione con una delle squadre sulla carta più forti di Eurocup come quella russa assolutamente annichilita al pianello. Però Fabrizio dopo la sconfitta contro Roma sono riprese anche a circolare alcune voci che parlano di un rapporto difficile fra cociacrepanti alla proprietà e magari anche di un possibile esonero nei prossimi giorni. Questa partita arriva in un momento molto molto delicato per Cantù ma anche una gara importante in termini di classifica perché se si vince anche questa la qualificazione alla fase eliminazione diretta di Eurocup diventa molto vicina. Cominciamo dalla partita giocata, dal parquet, poi parliamo del fuori parquet. Sul parquet Cantù affronta la squadra teoricamente più malleabile che tuttavia è terza del campionato greco dietro le due corazzate che vanta giocatori come Bremer, Vaughn, il fratello di Kit Lenford, quindi un roster comunque temibile. Inoltre Salonico e la Grecia sono campi dove è sempre difficile giocare e dove solitamente l'arbitraggio non è esterno ma più che altro è casalingo. L'incompiutezza della continuità, cioè la mancata continuità di Cantù è la cifra distintiva. La partita col Kim Ki di sette giorni fa è stata, come dicevi tu, sicuramente la prestazione migliore per bocca anche di Pino Sacripanti, però è seguito questo passo falso contro Roma che ha fatto ripiombare i tifosi nella tristezza da discontinuità. E lunedì, quindi dopo la sconfitta con Roma, sul web soprattutto come avviene ormai per tutto il basket, giocato e non giocato, quindi dialettico, si è rafforzato il partito delle zone di Pino Sacripanti, a cui come è noto io non appartengo, anzi lo avverso con tutte le forze. Però è un fatto. La Gazzetta oggi parla di rapporto difficile tra la società e l'allenatore. Quello che dobbiamo registrare, perché doveva fare i cronisti, quindi stare sul pezzo e essere seri, è un silenzio che avvolge questa vicenda. Dopodiché, per quanto valga, e so che vale poco la mia opinione, un cambio d'allenatore in corsa l'ho personalmente ritenuto ininfluente a Pesaro, e lo ritenerei a maggior ragione ininfluente a Cantù, perché Cantù ha mostrato di poter giocare una buona pallacanestro, certo anche giocatore di partite un po' più inquietanti, ma la discontinuità la cifra distintiva. Non vedo come sia possibile svoltare in maniera radicale una stagione che dopo quattro mesi ha già preso una sua direttrice ben precisa. Una delle forze, forse Sabino, finora di Cantù era stata proprio quella di resistere rispetto ad altre società, alle voci, alla tentazione magari di fare qualcosa sia a livello di roster che a livello di guida tecnica, perché Cantù ha avuto un momento difficilissimo in cui non riusciva a vincere più una partita in casa, eppure almeno prima la società aveva insistito sui stessi giocatori, sullo stesso allenatore, e con il lavoro sul campo Sacripanti era riuscito a riportare fuori, almeno momentaneamente, la squadra della crisi, cambiando qualcosa, più spazio Stefano Gentili in cabina di regia, scermadino utilizzato spesso dall'inizio, quindi insomma qualche miglioramento si era visto. Poi la sconfitta contro Roma effettivamente ha rifatto un po' precipitare le cose, è stato un altro passo indietro abbastanza evidente. Sì, io mi collego a quello che ha detto Stefano, ovvero c'è stato un passo indietro rispetto alla partita contro il Chimchi, che era una partita di squadra, se si può dire, dopo si è tornata all'individualità, al pianella contro Roma, in particolare diciamo che un uomo solo contro tutti, ovvero Stefano Gentili ha provato a salvare la baracca, ci sono state delle voci, soprattutto per quanto riguarda Johnson Odom, in cabina di regia, per questo poi molto spesso è andato in panchina proprio a favore di Stefano Gentili, e Pino Sacripanti, io per la mia giovane età, diciamo che mi sono avvicinato alla pallacanestro Cantù, proprio nella prima era di Pino Sacripanti, quindi è un pezzo di storia di Cantù, e penso che sia quello forse l'unico motivo fino adesso che l'ha tenuto in panchina. Una gara particolarmente delicata, Fabrizio, è difficile quindi per più di un motivo quella di oggi, magari più che per motivazioni tecniche, per motivazioni ambientali, perché come dicevi tu andare a giocare a Salonico significa clima avverso, pubblico di un certo tipo, e magari anche fischi di un certo tipo, e poi perché se si scende in campo in questa situazione difficile dal punto di vista del futuro della guida tecnica, per la squadra non sai mai quale può essere la reazione. Bravissimo, io farei il paragone con Reggio Emilia. Reggio Emilia per ammissione stessa dei suoi tecnici, dei suoi giocatori, ha sicuramente sofferto l'eliminazione prematura in Euro Cup, ma adesso si allena con la maggiore continuità. Domanda, quando è che Cantù ha espresso il basket migliore? A cavallo di Natale, quando non aveva gli impegni di Euro Cup, perché anche il Kimke, che è stata prestazione straordinaria, è venuta dopo la pausa natalizia di Euro Cup. E Sacrimpanti stesso l'ha detto, questa è una squadra nuova che necessitava di allenamenti, quindi a cui la palestra serviva, ma viaggiando ogni settimana la palestra è inibita, quantomeno per l'allenamento, costante, per preparare due partite una settimana, e peggio che prepararne una. Io sinceramente non so quanto faccia bene a questa squadra, un altro turno, tra l'altro la cosa paradossale, che pur essendo in pessima posizione in campionato, la vittoria contro Limoggi in casa, o un'eventuale vittoria di questa sera, proietterebbe Cantù non certamente, ma quasi certamente, perché passandone 2 su 4 e avendo battuto il Kimke in casa, due vittorie, o anche solo le vittorie casalinghe, consentirebbero il passaggio del turno, che vorrebbe dire arrivare comunque a metà febbraio con il turno di Euro Cup e gli ottavi di finale con menzione diretta. Quindi quanto faccia bene la Coppa? Io non lo so, sicuramente in termini di durezza, di impatto, fa molto bene, perché giocare contro Tyrese Rice si possono migliorare. Ma in questo momento così delicato, dentro il parquet e fuori dal parquet, io sinceramente non lo so. Cerchiamo che la squadra, l'appello ovviamente ai tifosi, che la squadra estragga il meglio dall'esperienza europea. però sinceramente non lo vedo così facile, l'accoppiamento tra i due impegni. Sabino, che gara ti aspetti oggi a Salonico? Una gara in cui Cantù sicuramente darà tutto per provare a fare questo passo in avanti verso la qualificazione, però, ripetiamo, da punto di vista mentale, situazione non facile per nessuno coinvolto. Sì, diciamo che se dal punto di vista tecnico e societario si è un po' all'acqua alla gola, dal punto di vista invece della classifica non lo si è proprio, perché si è vinto con, molto probabilmente, la miglior formazione del girone, quindi il Kim Ki in casa e, come diceva prima Stefano, il fatto è che il Pianella, sì, si sta rivelando meno fattore degli altri anni, quindi più squadre sono venute a vincere al Pianella, però bastano due vittorie ancora a Casalinghe e il girone, non dico sia vinto, però Cantù è a un passo dalla qualificazione, quindi questa partita è un'arma a doppio taglio. Da una parte c'è il calore del pubblico greco, e comunque il Pau che è terzo in classifica nel proprio campionato, anche se sembra la formazione greca non proprio fra le migliori di tutta l'Euro Cup, sicuramente sarà una partita ostica al quale Cantù darà il 100%, ma non credo che basterà in questa partita. Sicuramente sarà una partita ostica, ricordiamo, lo diceva anche prima Fabrizio, Paok Salonico terzo in questo momento in classifica nel campionato greco, quindi solo alle spalle delle due classiche Big Olimpia Cos e Panatine Cos, la qualità del campionato greco magari non è elevatissima se si va sotto Olimpia Cos e Panatine Cos, però c'è l'aspetto ambientale da non sottovalutare che renderà dura la vita alla squadra canturina. Eccolo qui, la classifica del girone, abbiamo detto Cantù vincitrice la prima giornata contro il Kim Ki, quindi ha fatto un bel break in avanti con poi la possibilità di passare il turno, il Limoges ha vinto la prima ed è alla pari con Cantù in vetta alla classifica, il Paok ha perso la prima proprio contro il Limoges, è chiaro, è un girone da quattro squadre, si giocano solo sei partite, ogni partita è quasi una finale, se se ne vincono due, come dicevamo prima Fabrizio, il passaggio del turno è vicino. Poi è chiaro che tutto può succedere anche perché poi Cantù dovrà andare a giocare a Mosca contro il Kim Ki e avrà andato e ritorno contro il Limoges, però insomma vincere questa sera vorrebbe dire fare un bel passo in avanti. Sicuramente qui la grafica è molto chiara, diciamo che Kim Ki-Limoges è una partita da uno, quindi non dico uno fisso però da uno prevalente, con una vittoria di Cantù, Cantù sarebbe l'unica squadra con due vittorie, quindi vorrebbe dire primo posto nel girone e partita casalinica con Limoges il prossimo turno, quindi a differenza del primo girone in cui Cantù è partita con 4-5 sconfitte consecutive, quindi nel peggiore dei modi, qui è partita nel migliore dei modi, il fatto è che gli incastri anche a livello emotivo e tattici non sono i migliori, c'è la pausa all'Star Game, ci sarà purtroppo la pausa delle Final 8 che Cantù non giocherà e questa è stata una cocentissima delusione per la dirigenza e per i tifosi, anche perché Desio che ha ospitato l'Eurolega di Cantù fino al 2012, 2012, 2013, mancare la qualificazione è stato veramente un doppio smacco. Quindi la situazione direi che è paradossale, però il basket è come la vita, la vita è paradossale, il basket è lo stesso. Devo dire che l'obiettivo è che la squadra ritrovi se stessa cogliendo dalle difficoltà l'aspetto migliore. Sotto il profilo tecnico è chiaro che un Feldin che gioca come contro Roma e fa 1 su 10 al tiro dal campo e sbaglia molti tiri diversi di quali aperti e facili è un problema di difficile risoluzione. Johnson Odom comunque è vero che si è parlato di lui come indiziato di taglio, oggi però la Gazzetta riporta le statistiche e se i numeri hanno un valore nel basket, Johnson Odom in campionato è il miglior marcatore di Cantù e il primo assist man, 14.8 e 3.6. Quindi è chiaro che con uno Stefano Gentile che ne ha fatti 17 con Roma, riacquisendo centralità in cabina di regia, i problemi tecnici sarebbero un po' più risolti. C'è questa discontinuità, c'è un Hollis che è tornato ad essere l'Hollis che conoscevamo, un Hollis molto mole, qualcuno lo chiama Mollis al pianella. Il problema del ragazzo è sicuramente emotivo perché sul valore giocatore nessuno ha alcun che da dire. Il problema evidentemente di caratteremo, tanto Hollis ha anche un problema al ginocchio e oggi è in discussione. Il fatto è che la quadratura non è mai facile e lo dicevamo a settembre-ottobre, ma è bene ripetercelo, cambiare 6, 7, 8 giocatori come nel caso di Cantù e come nel caso dell'80% delle squadre. Comporta inevitabilmente un'alea, cioè un fattore di rischio troppo elevato. Quindi le squadre che hanno la pazienza e la possibilità economica di progettare, in questo caso c'erano veramente in pochi, ne traggono sicuramente dei benefici. Poi Venezia ne cambia 9 su 10 ed è seconda, però Venezia ha ciarli recalcati. E tanti giocatori, ha cambiato anche rispetto all'anno scorso la Virtus Roma che è l'altra squadra che quest'oggi gioca la sua gara nella seconda giornata della seconda fase di Eurocopo, Virtus Roma è impegnata in trasferta sul campo del Saragozza, un Saragozza che, come il caso del Pau Salonico, ha perso la prima partita di questa seconda fase contro il Sedevita, una partita però molto tirata, vinta da Sedevita con il punteggio di 83-80. La Virtus Roma andrà a caccia invece della seconda vittoria consecutiva dopo quella, qui vediamo la classifica del girone, dopo quella della prima giornata contro il Krasni Octiabro, anche per la Virtus una bella possibilità di mettere già una piccola ipoteca sul passaggio del turno, comunque di fare un ulteriore passo in avanti. Sabino, per Roma il discorso era fino a poco fa simile a Cantuna, nel senso che anche Roma aveva attraversato una crisi e l'aveva apparentemente superata, però Roma ha avuto più continuità in questa sua reazione perché adesso ha collezionato fra campionato e Coppa tre vittorie consecutive e vediamo se riesce a continuare dopo, che ricordiamo nella prima fase di Eurocopa aveva fatto benissimo dominando il girone, meno bene stava andando in campionato, sembra che in campionato le cose si siano un po' messe a posto, vediamo se riesce adesso a fare bene sul doppio impegno in questa fase di stagione Roma. Sì, sarebbe qualora vincesse Roma la quarta vittoria consecutiva con un Saragozza che invece ha perso clamorosamente nella Liga SEV, quindi contro Gran Canaria, quindi si trova dall'altra parte una formazione che vuole avere un riscatto rispetto al campionato, ma l'ottava posizione in classifica dà questa squadra, diciamo una sorta di squadra non dico materasso, ma quasi per la Cera Roma che come Cantu qualora vincesse sarebbe 2-0, quindi un passo verso la terza fase poi dell'Eurocup. C'è a Roma, tra l'altro allenata da un altro allenatore che è passato per Cantu, Luca Dalmonte che tutti ricordiamo, diciamo che Roma prima era bella solo in Coppa e meno in campionato, adesso sta cercando di collimare tutte e due le cose e secondo me questa sarà una partita sì tirata, ma secondo me che Roma potrà vincere forse non con questo grande scarto, ma sicuramente darà filo di attorcere a Saragozza. Ci trova giustamente Saragozza in difficoltà in Spagna, nel senso che ha perso malamente in casa contro Gran Canaria lo scorso weekend ed è ottava in questo momento, quindi sull'ultimo posto disponibile per qualificarsi per le final eight, però abbiamo visto altre squadre con un rendimento un po' alterno, perché faccio un esempio il Basconia, Cacalaboralo, Laboralcuccia, è nella parte bassa della classifica in Spagna ed è nella seconda fase di Eurolega e anche Gran Canaria in Spagna sta facendo un po' di fatiche, in Eurocapla abbiamo visto dominante battere anche Sassari settimana scorsa. Quindi insomma Saragozza, fatto che non vada benissimo in ASB non vuol dire sulla carta Fabrizio, non so se la pensi anche tu così, che per Roma sia un impegno facile. Un'osservazione non giusta, che fa è giustissima. Inciso su Gran Canaria, magari ne parliamo dopo, Gran Canaria non credo sia la più forte delle squadre rimaste tra le 32, però forse la meglio allenata, perché il basket che esprime Aito è un basket straordinario. Ora il doppio binario tra campionato e Coppa, dopo aver visto domenica su Sport Italia, Barcellona Malaga, che ci ha fatto tremare i polsi per la bellezza, poi devo dire io sopra il Pianella, quindi oltre a essermi visto una sconfitta di Cantù, ho anche visto con tutto il rispetto delle due compagini una palla Canesco che sembrava non di un altro campionato, ma di un altro pianeta. Il doppio binario succede spessissimo per squadre che magari cominciano bene da un lato e male dall'altro. Roma, devo dire, per la prima volta l'ho vista dal vivo, dopo averla vista molte volte in televisione da voi e non solo. Io penso che sia una squadra molto ben coagulata, difficile da affrontare, ostica, come diceva qualche collega nelle scorse volte qua Sport Italia, con un solo corpo estraneo che è Brandon Trish, perché Trish, sul valore di Brandon Trish nessuno può dire alcunché, ma il rimbrotto di Nicola Alberani, quel chiedergli qualcosa in più. Io domenico ho visto una formazione veramente ostica, è difficile da affrontare, con un Bobby Jones a livello di collettivo straordinario. Stipvic, lo sappiamo, interessante questo Daniele Sandri, questo prodotto del vivario di Treviso, un 1990 che ha messo sei punti interessantissimi e importanti, però Trish invece è un corpo estraneo alla formazione, sembra la formazione di Roma più Brandon Trish, però è ben assemblata, è una squadra che anche in questo caso la grafica è esattamente speculare a quella di Cantù, pur essendo gironi diversi, una vittoria di Roma, quindi con due vittorie e zero sconfitte, benché siamo in trasferta, Saragozza a campo non facile, proietterebbe, non dico certamente, ma quasi certamente Roma agli ottavi di finale. Andiamo a sentire allora come presenta questa partita Federico Fouca, assistant coach di Luca Dalmonte, partita molto importante, avversario certamente non facile, però Roma può fare un bel passo davanti verso la qualificazione in caso di vittoria. Sentiamo. Domani ci aspetta una partita di altissime difficoltà a Saragozza, altissime difficoltà perché giocare in Europa in trasferta a prescindere è sempre comunque molto difficile, in particolar modo nella seconda fase con il livello delle squadre che si è decisamente alzato sarà ancora più difficile. Saragozza è una squadra molto profonda con un roster di dieci giocatori, tutti quanti coinvolti. Vengono dalla prima partita sul campo di sede vita, dove hanno fatto una partita molto livello, rimanendo in partita fino all'ultimo possesso, quindi per noi, ripeto, sarà sicuramente un impegno molto difficile. L'obiettivo è cercare di reggere contro la loro fisicità, contro il loro atletismo, cercando di essere pronti a non fermarsi in attacco alla prima opzione, ma muovendo la palla, giocando più di passaggi che di palleggi, cercando di andare a trovare dei vantaggi per appunto combattere il loro atletismo e la loro fisicità. Una delle tre squadre italiane impegnate in Eurocup è scesa in campo ieri e ha ottenuto una bella vittoria. Parliamo del Banco di Sardegna Sassari, vincitore con un solo punto di scarto 75-74 sul campo del Banvit, gara decisa nel finale di una schiacciata di Shane Lawal, dopo che la Dinamo era stata avanti di 14 punti, si era fatta recuperare, era scesa fino almeno 6, poi ancora ha avuto questa bella reazione nel finale che l'ha portata a vincere la partita. Possiamo vedere le immagini proprio dalla parte finale di questo match, molto entusiasmante. Bella vittoria per Sassari, importante anche perché Sassari veniva dalla sconfitta, era la settimana scorsa in casa contro Gran Canaria. Sabino, chi poteva magari ipotizzare che Sassari non si impegnasse magari al 100% in Eurocup perché sappiamo quanto il doppio binario sia stato pagato in termini di Eurolega da Sassari che in campionato quando faceva l'Eurolega ha fatto un po' di fatica, invece questa reazione, questa vittoria così voluta, così cercata dalla Dinamo fa capire che Sassari ci tiene come a passare il turno in Eurocup. Sì, Sassari che tra l'altro ha un vantaggio addirittura di 19 punti nel terzo quarto, poi si è fatta rimontare e ha dovuto giocarla punto a punto. Ricordiamo anche che Dyson era a mezzo servizio e quindi Senders si è dovuto prendere sulle spalle la squadra, 22 punti, quindi è riuscito e poi dall'altra parte è stata la classica partita di chi gioca molto sul perimetro, ovvero se sono sempre le percentuali a mantenerti vivo, quando entra allora va tutto bene, allora vai sul più 19, quando inizia a non entrare più l'altra squadra ti recupera soprattutto se è in casa. Nel rush finale è stata brava la squadra di coach Sacchetti a crederci ancora, è stata una vittoria molto voluta, una vittoria di cuore, tra l'altro era da tantissimo che non vinceva in Europa la Dinamo e parlando di campionato è riuscita ad agguantare all'ultimo la seconda posizione, come è riuscita in questa partita ad agguantare all'ultimo la vittoria. Una vittoria Fabrizio fondamentale per il cammino in Euro Cup, nonostante le assenze che ancora ci sono, perché ricordiamo Brooks fuori ancora a lungo termine, chissà quando potrà rientrare dopo i problemi fisici che ha avuto, squadra che sta lottando fra tutte queste assenze e sta comunque ottenendo risultati positivi, perché questa vittoria come vediamo qui nella grafica del girone, di fatto rimette Sassari in carreggiata, 1-1 come il Bandit, Gran Canaria giocherà questa sera contro il Voodoo Knost, questo è un girone che al di là di Gran Canaria che se vince come dovrebbe fare questa sera potrebbe prendere il largo, per la seconda posizione come minimo ancora vede tanta tanta bagarre sicuramente. Io ieri ho visto la partita, la seconda metà di gara, devo dire che Rakim Sanders, ne parlavamo la settimana scorsa, rientra e fa subito un ventello. Quando Jeff Brooks si parla di febbraio inoltrato ai loro per i sassaresi, dovesse rientrare, questa è una formazione che a roster completo fa paura. Credo che l'Eurocap sia maggiormente confacente alla qualità e alla tipologia del roster di Sassari. Attenzione a farci prendere da interpretazioni fuorvianti, noi stiamo valutando una Sassari largamente incompleta, come nel caso di Reggio Emilia in campionato. Una Sassari invece a pieni e completi ranghi, secondo me Jeff Brooks non è solo una carenza di un decimo del roster. Brooks vale secondo me il 20-30% della squadra perché è un metronomo, un elemento di congiunzione tra i piccoli e lunghi di grandissimi doti atletiche e tecniche. Quindi Sassari ieri secondo me ha anche mostrato un volto diverso, con Dyson con il dolore alla schiena, devo dire che una formazione che assieme a Reggio Emilia nei confronti della fortuna un grosso credito e oltre a non dover credo più andare all'UR, come suggeriamo i Lakers di inizio stagione per tanti infortuni, penso che stabilizzandosi la situazione nei prossimi mesi, io il mio famoso Euro sul girone di Sassari lo scommetto su Gran Canario che a me impressiona sempre positivamente e su Sassari. Quel punto agli ottavi di finale, non ricordo bene gli incroci che sono già credo predeterminati quantomeno per gli ottavi, Sassari nelle prime otto squadre di Euro Cup secondo me ci può finire, dopodiché le contendenti cominciano a essere tante, abbiamo il Bambi di Trinchieri che pure ha perso la prima partita, le formazioni che arrivano dall'Eurolega, però penso che tra le prime otto squadre di Sassari ci possa andare e poi quando arrivi lì te la puoi giocare. Abbiamo visto intanto la schiacciata di Lawal che ha dato a Sassari il vantaggio quando mancavano cinque secondi alla fine, questo è l'ultimo possesso del Bambi, il tiro se lo prenderà I.J. Rowland, giocatore visto anche in Italia con la maglia di Cremona e non squalificato dopo la rissa della settimana scorsa contro il Budu Knost, mentre Mejia, altro giocatore del Bambi è stato squalificato per tre giornate, ecco la penetrazione di Rowland, ultimo tiro che si spegne sul ferro e Sassari grazie anche a questo errore vince la partita e fa questo bel passo in avanti in classifica passando a una vittoria e una sconfitta, insomma Sabino una gara vinta punto a punto alla fine, poteva succedere di tutto perché si tratta come sempre di episodi, però il fatto di aver reagito, aver ripreso per i capelli una gara che sembrava prima vinta e poi magari persa, fa capire quanto Sassari ci tenga questa competizione e sia lì a lottare anche in Euro Cup. Sì, come abbiamo visto il canestro, questione di millimetri per la vittoria del Bambi anche perché citavamo Shane Laval, è stato lui a contrastare all'ultimo I.J. Rowland buona, buonissima anche la sua prestazione, quindi secondo me col ritorno di Jeff Brooks anche dal punto di vista lunghi si ritornerà a una Sassari al completo, per adesso gioca più il cuore che invece i giocatori affettivi, però questo è un merito, è un vanto per la formazione di Sacchetti, sicuramente non è un demerito. Dunque Sassari può dire la sua in questo girone, forse non per il primo posto perché come dicevamo Gran Canaria potrebbe andare già sul 2-0 oggi, però sicuramente può entrare nelle prime otto di Euro Cup. C'era in campo ieri un'altra squadra italiana in una Coppa Europea, parliamo dell'Enel Brindisi che ha cominciato la seconda fase di Euro Challenge con una vittoria. Possiamo vedere subito la grafica del girone che vede impegnata la squadra dei coach Piero Bucchi al contrario dell'Euro Cup, l'Euro Challenge cominciava ieri per quanto riguarda la seconda fase e Brindisi ha ottenuto la vittoria contro quella che sulla carta era la squadra più forte del girone perché la Stana, squadra kazaka allenata recentemente anche da un coach italiano come Matteo Boniccioli è caduta a Brindisi con il punteggio di 74 a 65 sulla carta, le altre squadre sono più deboli, insomma anche Brindisi e Fabrizio con questa vittoria un bel passo in avanti verso la qualificazione lo fa, anche se poi il girone è molto lungo, cioè è molto lungo, non è molto lungo perché sono solo quattro squadre, però questa era solo la prima giornata, ci sono ancora cinque partite, di sicuro Brindisi vincendo con nove punti di scarto che non sono tantissimi, però non sono neanche così pochi, parte bene in questa seconda fase. Sì, ricordo che coach Gresta prima di partire per il QA, te lo salutiamo nel caso di se guarda non conosco bene il fuso orario, magari ci stai guardando, parlava di una Stana che dopo Matteo Boniccioli ha avuto anche problemi di riassettamento economico, sinceramente è molto intrigante l'Euro Challenge perché molte squadre neanche le conosco sinceramente, però Brindisi a differenza di Cantù e magari anche di Roma penso possa trarre vantaggio dall'Euro Challenge perché è un roster che è dovuto cambiare a causa degli infortuni, ha un giocatore come Pullen che va messo in ritmo e quindi gli serve giocare e ha, ripeto, il famoso quintetto base tra i più temibili della Serie A, ora pronosticare per Brindisi la stessa sorte di Reggio Emilia che l'Euro Challenge l'ha vinta l'anno scorso, io sinceramente non ricordo a memoria tutte le altre contendenti, però, ripeto, è una squadra che si trova continuità nei non infortuni, se riassetta il proprio quintetto base e quindi salda la panchina e i titolari è una formazione che in Euro Challenge con queste contendenti può andare molto avanti, magari non per la vittoria ma quantomeno per i primi posti. Vittoria importante, Sabino, anche perché Brindisi veniva da questa bruttissima sconfitta, stiamo venendo le immagini della gara di sabato scorso contro Reggio Emilia, una delle peggiori prestazioni della stagione, invece ieri ha ritrovato la squadra, ha ritrovato la qualità anche e soprattutto da parte degli esterni, 19 punti Damon, 13 punti James, 15 punti invece di James Mays e appunto è arrivata questa vittoria con Brindisi che nel primo quarto ha chiuso avanti i 13 punti, 27 a 14, poi 8 a 0 il parziale a inizio quarto periodo che ha di fatto chiuso definitivamente la contesa. Però una Brindisi che veniva da una gara così brutta a vincere in Coppa che peraltro l'ha detto anche il coach Piro Bucchi qui nei nostri studi qualche settimana fa è uno degli obiettivi prioritari della squadra per la stagione perché Brindisi ci tiene come a fare bene in Euro Challenge, bella iniezione di fiducia questa vittoria di ieri. Sì e secondo me ha fatto bene anche, tra l'altro complice del calendario, a ritornare in casa, ovvero dopo la figuraccia in casa a Brindisi contro Reggio Emilia, ritornare di fronte al proprio pubblico con una grandissima prestazione di squadra e soprattutto contro una delle squadre favorite non può fare che bene alla formazione di coach Bucchi. Come dicevamo, d'altronde se una squadra è decimata dagli infortuni e deve cambiare il roster in corsa è sempre difficile trovare l'amalgama per poter competere in due competizioni comunque come sono l'Euro Challenge e il campionato. Dall'altra parte sicuramente secondo me un banco di prova saranno per i nuovi e per chi tornerà dagli infortuni anche le Final Eight, ovvero centrare le Final Eight e arrivare in una buona posizione come quella che è Brindisi sarà un ottimo banco di prova per la formazione di coach Bucchi, questa secondo me è stata una vittoria fondamentale sia per quanto riguarda la stagione di Euro Challenge e sia per quanto riguarda l'intera stagione di Brindisi. Chi non fa le Coppe ma parteciperà alle Final Eight di Coppa Italia come ultima, come ottava nel tabellone è la Sediga Savellino, che nonostante la sconfitta interna contro Varese ridomenica ha ottenuto il pass a seguito della sconfitta di Cantù contro Roma, noi adesso andiamo a fare il punto proprio sulla situazione della squadra di coach Vittucci nel prossimo servizio, firmato da Silver Mele. Si pensa al campionato ma anche alle Final Eight di Coppa Italia che si terranno dal 20 al 22 febbraio, il tempo di metabolizzare la sconfitta contro Varese che la Scandone Avellino deve necessariamente rivolgere lo sguardo già all'impegno del prossimo mese. L'Emporio Armani Milano era già sicura del primo posto e sfiderà l'ottava classificata appunto la Sediga Savellino, che passerà affronterà in semifinale la vincente tra la quarta e la quinta classificata, rispettivamente umana Venezia ed è nel Brindisi. Frank Vittucci intanto non nasconde la propria amarezza per la brutta prestazione con Varese, i Lombardi non vincevano in maniera così larga fuori casa da ben 17 anni. Onestamente non mi sarei aspettato una prestazione del genere ma visto che questa è stata la risposta dei giocatori bisogna prendere dei provvedimenti in qualche maniera. Adesso bisogna analizzare, secondo me senza farsi prendere da isteria o da panico, bisogna sicuramente analizzare il tutto con il management del club e poi mettere sul piatto quelle che sono le decisioni che devono far sì che la squadra reagisca al più presto e poi si prepari per la seconda metà del campionato degnamente. E con le parole di coach Frank Vittucci chiudiamo la prima parte di Seabasket, fra poco ancora insieme per un'altra mezz'ora per parlare di campionato italiano, di NBA e per avvicinarci anche alle due sfide di Euro Cup di questa giornata. Paux Salonico contro Cantù e Saragozza contro Reggio Emilia, tutte e due in diretta su Sport Italia. A fra poco. Ben ritrovati ancora a Seabasket, ancora mezz'ora insieme, prima però di regalare ancora pallacanestro a tutti i telespettatori di Sport Italia perché vi ricordo il doppio appuntamento odierno ancora una volta di Euro Cup alle 16 in diretta da Salonico la sfida fra Paux e Foxtown Cantù, questa sera alle 20.30 poi si replica con la sfida fra il Kai Salagozza e la Virtus Roma, entrambe gare valide per la seconda giornata della seconda fase di Euro Cup. Ancora Seabasket per mezz'ora però adesso, darò torno a presentarvi gli ospiti di questa giornata, cominciando da Sabino Palermo di Basketicide, ancora buon pomeriggio. Buon pomeriggio Matteo, buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovato ancora anche a Fabrizio Provera di Daily Basket. Ciao Matteo, ciao a tutti i telespettatori. Abbiamo parlato prima di Serie A, di Serie A Becco e adesso continuiamo il discorso legato alla Serie A lo facciamo però facendo un po' di spettacolo e andando a vedere quelle che sono state le dieci migliori giocate della quindicesima giornata della Serie A Becco. Andiamo a vedere quelle che sono state le dieci migliori giocate del numero 24 locale, Alison Scott. Ancora Gibson, stoppato da Dequan Jones. Tre cagnati per l'intitolo di MVP per la stagione regolare, adesso va per terra sulla tinta White. con la tinta White ha messo a sedere Tony che è scivolato e tutto a terra. Arriva il rinforzo per la stoppata, tre giocatori in ribalzo, poi la stoppata di Dominic Carci a cancellare un canestro della formazione veneziana. Il contropiede è chiuso da Austin Freeman. Nella valle, Polonara, Cervi e Silitz per la Grisport. Rombarco, Ata per Eric. Piafrafica su 25, la schiacciata in bago Leric. Qui uno strafittoso del recupero difensivo con riapertura in contropiede di un Justin Hunter. Il rinforzo di Milano è ancora una volta Alessandro Gentile, che va a chiudere con la schiacciata a due mani. Granissima iniziativa individuale per il capitano dell'Olimpia. Benvenuti, Marco Mordente che sbaglia. Ross vede e mette un canestro, dato è incredibile. Ross ha messo la pinta da 40 metri, incredibile. Ancora un rinforzo conquistato però dalla formazione ospite che non solo segna e qui gioco spettacolare da parte di Polonara. Il volo di Polonara, la giocata più bella dell'ultima giornata del campionato di Serie A B, con la quindicesima quella che ha chiuso il girone d'andata. Adesso facciamo un salto oltre oceano, andiamo a vedere quello che è successo nella NBA. È successo che i Cavs, nonostante il ritorno di LeBron James, hanno perso un'altra partita questa volta contro i Phoenix Suns. Il servizio è firmato da Vito Coppola. Allo US Airways Center di Phoenix, i Suns battono i Cleveland Cavaliers per 107 a 100. Nonostante il ritorno a sondi punti di LeBron James, assente dallo scorso 28 dicembre a causa di fastidi al piede sinistro. Sesta sconfitta consecutiva per gli uomini di Coach Blatt, la nona nelle ultime dieci gare. Momento di segno decisamente opposto per i Suns, che conquistano l'undicesima vittoria nelle ultime 15 partite. Gli uomini di Coach Ornacek partono meglio e conducono nelle percentuali dalla media distanza e nel punteggio per buona parte del match. Cercano di andare via con un buon break, ma sono frenati dal solito James, che tiene i suoi in scia e ancora in partita. All'intervallo lungo i padroni di casa chiudono sul 59 a 51, con un vantaggio massimo arrivato a più 13. Nel terzo quarto i Suns cercano e trovano la fuga, grazie a Markith Morris, che in collaborazione col gemello Marcus, trovano un ottimo parziale che li porta a condurre di 19. Ma negli ultimi 120 secondi di tempo, J.R. Smith e LeBron infilano 16 punti e riportano i Cavaliers sul 79 a 85 alla penultima sirena. Nell'ultimo quarto Cleveland completa la rimonta, ma nei due minuti finali la miglior precisione al tiro, soprattutto dalla lunetta di P.J. Tucker, consegna ai Suns una vittoria che sembrava sfuggire di mano, proprio sul più bello. Grande gara per Markith Morris, autore di 35 punti. James ne realizza 33 al suo ritorno, il che lascia ben sperare in una repentina inversione di tendenza per Cleveland. Ancora una sconfitta allora per i Cleveland Cavaliers, che continuano nel loro momento decisamente negativo, anche con il ritorno del prescelto. Andiamo a vedere in grafica quelle che sono state le gare della notte, quindi i risultati di una notte NBA decisamente ricca di partite. Vediamo se abbiamo tutti i risultati della notte nella National Basketball Association. Chiedo alla regia possibilmente di mandare la grafica. Eccoli qui che arrivano i risultati della notte. Avevamo sette gare in programma. Minnesota ha battuto Indiana in trasferta con nove punti di scarto. Atlanta ha vinto ancora a Philadelphia 105-81. Washington ha avuto la meglio su San Antonio, 101-93. La sconfitta di cui abbiamo visto le immagini è quella di Cleveland sul parquet di Phoenix, 107-100. I Golden State Warriors ancora una volta vincitori sul campo di Utah, 116-105 dalla sabattuto sacramento, 108-104 Miami. Ha avuto la meglio sui Lakers, 78-75. Dovremmo avere anche le classifiche della NBA. Cominciamo come sempre dalla Eastern Conference. Toronto guida l'Atlantic Division con 25-20 e 12 perse, seguita da Brooklyn, Boston, Philadelphia e New York, che sono però tutte sotto il 50%. Nella Central, Chicago, Milwaukee, Cleveland, Indiana e Detroit. Nella South East, Atlanta, Washington, Miami, Charlotte e Orlando. in questo ordine in classifica. Western Conference, per quanto riguarda sempre la NBA, Portland guida con un record nettamente migliore rispetto a quello di tutte le altre. Oklahoma City, Denver, Utah e Minnesota. Nella Pacific ci sono Golden State al comando, poi Clippers, Phoenix, Sacramento e Lakers. Nella Southwest, Houston, Memphis, Dallas e San Antonio. Sono tutte e quattro con un record sopra il 50%. New Orleans invece ha 18 vinte e 19 perse. Vediamo se abbiamo anche il prossimo turno, le prossime gare NBA che sono molte, notte ricchissime come vediamo con Spursor Nets, Rockets, Magic, Grizzlies, Nets, Pelicans, Pistons, 76ers, Raptors, Wizards contro i Bulls, gli Hawks contro i Celtics, i Mavericks contro i Nuggets, gli Heat contro i Warriors e poi Los Angeles Clippers contro i Portland Trail Blazers. Vediamo se abbiamo la possibilità di andare a sentire anche qualche intervista che riguarda la NBA. No, per adesso non sono ancora pronte, mi dicono, le interviste NBA. Allora facciamo brevemente un punto sulla situazione per quanto riguarda la National Basketball Association e mi sembra che la notizia più importante di questo periodo sia la crisi dei Cleveland Cavs. Sabino, sconfitti ancora nonostante il rientro di LeBron James, continuano a circolare anche voci che parlano di una possibile frattura fra la squadra e David Blatt. Insomma, questo ritorno di LeBron a Cleveland per adesso non sta portando ai frutti che si pensava. Sì, diciamo che LeBron è rientrato questa sera, anche è stato, mi sembra, il periodo più ampio in cui lui non ha giocato, dunque mi sembra che fosse la quinta o la sesta partita di seguito. Tra l'altro, secondo me, nonostante l'aggiunta di un ottimo giocatore, qual è J.R. Smith, ha completamente annullato gli altri due delle star, ovvero Kyrie Irving e Kevin Love. Ovvero, se prima non c'era il contributo di James, uno da una parte, uno dall'altra, o Irving o Love riuscivano a dare il proprio contributo e magari riuscire a tenere il record sopra il 50%, adesso J.R. Smith sta monopolizzando l'attacco del Cleveland Cavaliers, infatti anche ieri sera oltre al treintello di LeBron James al ritorno c'è stata anche l'ottima prestazione di J.R. Smith, però invece sia Irving che Love non sono riusciti a portare Cleveland alla vittoria. Dunque, penso che sia questa combinazione di fattori, ovvero sia la frattura fra David Blatt, che sì, è americano, ma diciamo che è l'allenatore europeo dell'NBA per quanto riguarda l'intera Lega e in generale LeBron James, l'entourage e in particolare la squadra che sembra non seguire i dettami dell'allenatore. Andiamo a sentire anche le parole di LeBron James che ha parlato ieri prima per la verità della gara contro i Phoenix Suns, un LeBron James contento di tornare in campo, però sicuramente la situazione per la sua squadra non è in questo momento delle migliori. Ho ancora un po' di dolori fisici, mi sento un po' in difficoltà, non ho fatto esercizi in queste due settimane, quindi il mio corpo è un po' acciacato, ma non è un male insopportabile, insomma, e questo è positivo. Ho fatto un po' di tutto fino a quando i miei allenatori mi hanno messo alla prova. Non volevano che mi sforzassi troppo, per lungo tempo, dovrò piano piano riprendere gli allenamenti. Sono stato in grado di fare un paio di test in modo da verificare le mie condizioni. Speriamo che vadano bene, partiremo da lì per studiare gli esercizi e per iniziare a tornare in campo. Sì, vedere che la propria squadra fa fatica a non poter intervenire è la cosa più difficile che si possa vivere. Beh, io so i sintomi che avevo prima quando mi allenavo normalmente. Con i coach abbiamo deciso di fermare l'allenamento per due settimane, in modo da capire bene quali parti del corpo hanno dei problemi seri e quali sono solo un po' più dolenti. C'è differenza solo da tenere d'occhio. Dobbiamo far bene, utilizzare il nostro massimo potenziale e non mettere a rischio la nostra posizione nella Eastern Conference. Dobbiamo migliorare, dobbiamo affrontare ogni partita seriamente. Ho odiato il fatto che stavamo giocando abbastanza bene quando ero in campo e che invece ci siamo lasciati sfuggire un sacco di occasioni quando sono uscito. Speriamo di rifarci di nuovo molto presto, possiamo tornare a vincere. Beh, alla fine delle gare i ragazzi escono a testa bassa, a volte abbiamo appena avuto modo di continuare a lavorare nel modo migliore. Per un po' abbiamo giocato davvero una buona palla a canestro, altre volte invece non l'abbiamo fatto e siamo in ritardo. Ultimamente lo stiamo facendo benissimo, quindi speriamo di tornare presto a giocare al meglio. E allora un LeBron James sicuramente un po' scuro in volto vista la situazione difficile dei Cleveland Cavaliers. Da una parte Fabrizio, c'è Cleveland che continuano ad andare male, dall'altra ci sono i Golden State Warriors che stanno facendo un basket veramente di altissima qualità e sono in questo momento la squadra più forte e anche più bella da vedere nella NBA. Rimane forse qualche punto interrogativo su come questo basket fatto di alta velocità di tanto tiro da tre sia applicabile a livello di playoff. Quando il gioco cambia si gioca molto più intensamente, la difesa è più solida, i punteggi si abbassano e non è facile ripetere lo stesso tipo di gioco. Io ho visto domenica Golden State-Cleveland, devo dire che Golden State esprime un gioco collettivo straordinario e Cleveland esprime un gioco collettivo straordinario in negativo. I numeri sono impietosi perché Cleveland va sotto il 50% di vittoria e con questa classifica ad ovest la cosa curiosa per me che sono un gran tifoso di San Antonio ci sarebbe un accoppiamento tra la prima e l'ottava ossia tra Golden State e San Antonio. Io devo dire che il linguaggio del corpo che Blatt trasmetteva domenica rispetto a Lebron che era in panchina era diametralmente opposto e credo che sia preoccupante ossia un Blatt molto teso e nervoso ovviamente e un Lebron che invece seppur in abiti borghesi non faceva un plissé. Quindi questa mancanza di identità di vedute alimenta le voci. In più c'è la stampa di Cleveland che leggo abbia preso apertamente le parti di Lebron quindi non veda di Bonocchi e David Blatt che è un straordinario allenatore che probabilmente paga come diceva Sabino la provenienza eccessivamente europea quindi è chiaramente un allenatore statunitense ma di formazione europea e non ha quella allure quella fama costruita in anni e anni che alternatori anni quindi spiace comunque la squadra i problemi li ha per chi li esprime si esprime al di sotto lo suo potenziale Golden State oltre a Curry io sono ammirato da Clay Thompson dalla purezza di stile dal basket e da adesso è figlio di un giocatore degli anni 80 ha una pulizia di meccanica di tiro una continuità di rendimento veramente straordinaria domani sera va in scena Sabino a Londra la nuale ormai partita inglese dell'NBA con i Milwaukee Bucks di fronte ai New York Knicks una partita che ovviamente doveva sulla carta portare in Europa una delle squadre più glamour dell'NBA si sperava sperava l'NBA soprattutto che quest'anno i Knicks con l'arrivo di Phil Jackson e di Derek Fisher in panchina riuscissero a risollevarsi dalla loro crisi ormai infinita invece la stagione è stata ancora molto deludente e a Londra su un palcoscenico ovviamente molto importante per l'NBA e per l'Europa che non ha tantissimo appeal tecnico probabilmente anche se i Bucks sono in risalizia stanno giocando una stagione comunque positiva sì clamorosamente sarà più oggetto di scena o comunque di vedute i Bucks rispetto ai Knicks anche perché i Knicks arrivano da una crisi eccessiva e tra l'altro nell'occhio del ciclone ci sta andando Andrea Bargnani quindi dal punto di vista italiano non è proprio un bel periodo per i New York Knicks tra l'altro si parlava mi sembra ieri dall'SPN del fatto che si vorrebbe tagliare proprio Andrea Bargnani che ha totalizzato penso 22 minuti in tutta la stagione giocando due partite rientrato all'infortunio sfortunato se infortunato di nuovo più che altro è il suo contratto ovvero 11 milioni e mezzo di dollari non sono facili da ammortizzare perché una società come i New York Knicks sicuramente problemi di soldi non dovrebbe averli a parte Bargnani anche Calderone è a rischio diciamo tutta la colonia europea dei New York Knicks sta perdendo l'appeal che aveva all'inizio e sicuramente questo viaggio a Londra favorisce di più forse i Bucks dei Knicks stessi soprattutto perché hanno perso completamente di fascino e il rischio Fabrizio è che la carriera in piedi di Bargnani in caso di fine ingloriosa della sua avventura in Knicks possa interrompersi perché sicuramente non si è fatto pubblicità positiva con tutto quello che gli è successo per carità non solo per colpazione in questione a New York però il fatto di aver fallito così questa opportunità di magari essere uno dei giocatori che potevano contribuire a una rinascita di Knicks che non c'è stata potrebbe creare qualche problema nel trovare un nuovo buon contratto ne parlavamo con te l'ultima volta in cui parlavamo di Bargnani io do un consiglio di comunicazione a Andrea Bargnani andare in televisione e dire che giocherà gli europei assieme all'Italia al giocatore serve un rilancio di immagini in primis io ravviso questo incredibile silenzio da parte sua ci sono i media di New York che saranno centinaia di persone che parlano di Bargnani e Bargnani che non parlano non reagiscono a questo punto chi gli sta consigliando dall'Italia anche un ritorno in Europa benché ovviamente gli 11 milioni di dollari siano difficilmente riproponibili in un contesto europeo però quantomeno gli europei al giocatore ripeto serve un rilancio in termini immagini che poi può anche essere un rilancio in termini motivazionali individuali propri perché per il resto è davvero inglorioso quello che quello che abbiamo visto sino ad adesso e peccato peccato davvero sicuramente sì e c'è da dire che Bargnani è in una situazione in cui se vogliamo non è il solo italiano a rischiare di vedere terminare quest'anno la sua carriera NBA Gigi Datome ha dichiarato che assolutamente resterà fino alla fine della stagione in NBA però quello che succederà alla fine della stagione ricordiamo che il suo contratto in scadenza a fine anno con Detroit è onestamente tutto da decifrare nel senso che già Datome ha avuto negli ultimi mesi richieste dall'Europa e visto che di spazio di l'Iran sta trovando poco non è escluso che decida di fare marci dentro di tutte le quale sì ma tra l'altro se non trovava spazio con la squadra che stava andando male adesso che viene da 9 vittorie anzi 10 vittorie in 11 partite sicuramente non sarà preso in considerazione anche perché i Detroit Pistons stanno risalendo piano piano la classifica quindi Gigi Datome sicuramente non sta vivendo un periodo più che altro più tra panchina e tribuna che altro molto molto felice e come dicevamo prima potrebbe tornare in Europa anche se secondo me è l'unico giocatore che fino adesso ha espresso il suo amore completo verso l'NBA nel senso che Datome giocando pochissimo è sempre stato convinto del proprio potenziale ed è sempre stato convinto di essere un fattore in questi Detroit Pistons abbiamo già le prime immagini che ci arrivano da Salonico dove fra pochi minuti andremo a seguire la sfida fra il Pauk Salonico e la Foxtown Cantù fra poco avremo anche la possibilità di collegarci con chi per noi seguirà questa sfida ovvero Mario Castelli e Carlo Fabricatore la prima impressione Fabrizio è che il palazzetto sia praticamente vuoto il che ci fa fare una piccola marcia indietro su quello che dicevamo di un possibile comunque atmosfera infuocata situazione ambientalmente difficile mi sembra che non ci sia veramente nessuno allora appelliamoci appelliamoci le migliaia di canturini che come sempre guardano Sport Italia e Sea Basket di riversarsi al televisore per creare il calore in effetti è vero vedo un po' là o arrivano tutti tra 4 minuti ossia quando ne mancano 2 o altrimenti c'è un fattore campo che non è proprio caldo ciò nonostante tenderesco mettere su un arbitraggio non propriamente imparziale però francamente sì devo dire che al di là delle battute io penso che i primi minuti dei volti dei giocatori di Cantù diranno parecchio sul tipo di partita che la Foxtown andrà a fare perché in questi casi conta molto più la testa della tecnica e o ci sarà reazione perché comunque la vittoria contro il Kim veniva dopo un periodo comunque positivo qua siamo a un'ennesima battuta d'arresto quindi step and down e speriamo che ci sia per l'Italia e per Cantù una reazione prima di tutto emotiva e poi anche tecnica vediamo se possiamo già collegarci allora con chi ci racconterà questa partita abbiamo ancora il collegamento con Mario Castelli e Carlo Fabricatore Sabino si diceva comunque per Cantù il più grosso problema era non tanto quello tecnico ma quello ambientale a vedere il palazzetto così vuoto fa pensare che ok gli arbitri poi probabilmente non saranno a favore di Cantù speriamo che siano come devono essere sempre equilibrati e favorire chi commette fallo e chi non lo fa quindi arbitrare nel modo più corretto però al di là di questo discorso ambientale a vedere il palazzetto così vuoto si riduce un po' si diciamo che un 50% del potenziale greco si riduce per il pubblico forse l'orario non è quello adeguato per portare la gente a palazzetto e le finanze dalla gente di Salonico immagino ecco sicuramente quindi o la stanno guardando su Sport Italia sono collegati in streaming le computer greci esatto ma la forza comunque di tutte le squadre greche in particolare quelle che non sono delle potenze economiche come l'Olimpiacos o il Panathinaikos certo è il pubblico di casa sicuramente questo rispetto a quello che abbiamo detto pochi minuti fa è un passo avanti per Cantù ovvero come diceva bene Fabrizio se nei primi minuti lo sguardo è quello come dice Mario Boni l'occhio della tigre scusami ma ricordare Mario Boni che è stato un campione di Salonico hai fatto Sabino benissimo esatto Mario Boni sarà sicuramente dal televisore perché Salonico gli ricorda nell'Aris una militanza straordinaria e credo c'è un video guarda su Youtube facciamo un off topic di 10 secondi c'è il video in cui Mario Boni riceve l'omaggio dei tifosi di Salonico al suo ritorno al palazzo ovviamente come sempre molto moderati con fuoco stava incendiando il palazzetto e una volta Mario Boni mi ha raccontato che era a bere un caffè in un bar di Salonico senza che nessuno sapesse che era lì un tifoso l'ha riconosciuto in 5 minuti anche perché lì non è che lavorassero tanto credo in quel periodo sono arrivati tipo 100 tifosi dell'Aris che l'hanno preso l'hanno alzato e come una madonna pellegrina l'hanno portato in pellegrinaggio per le vede di Salonico questo è il tifo greco e ai ragazzi di 20 anni lo diciamo sempre andatevi a rivedere l'Aris Salonico non il pauc di Nikos Galis e Pagnotis Yannakis che è stata una delle squadre più grandi degli anni 80 io ricordo un Salonico Milano in cui per 40 minuti di fila ci fu un tifo infernale che quello della Stella Rossa a confronto è un tifo dai Ducande quindi comunque sia la Grecia è sempre una grande patria per gli amanti del basket secondo te Fabrizio giocatore più importante per Cantù questa sera chi desegneresti come quello più atteso io dico il peggiore contro Roma quindi James Feldin Feldin è fondamentale Johnson Odomo ha giocato una discreta partita ci auspichiamo che Stefano Gentili continui nel processo di crescita attenzione Giorgi Cermadini che ha giocato uno stordino al primo quarto Cermadini fa di valutazione 14 di media nel primo quarto poi rimane 14 Cermadini su questi contesti europei ha ancora comunque un potenziale secondo me rilevante secondo te Sabino il giocatore più importante questa sera per Cantù quello che deve dare qualcosa in più per vincere su questo campo io sono d'accordo è anche diciamo Cermadini il giocatore che è più abituato anche a questi contesti anche se sono d'accordo sul fatto che Feldin essendo un giocatore molto orgoglioso sicuramente vorrà rifarsi dalla partita contro Roma anche perché ricordavamo prima che Cantù più che di squadra gioca di individualità Feldin aveva portato avanti Cantù nel primo periodo della stagione sembrava entrargli tutto e ora che vede dall'altra parte uno Stefano Gentile che sta prendendo sempre più le chiavi della squadra sicuramente dovrà fare il classico go to guy cioè entrare e metterla dentro e non dimentichiamo che la calo di rendimento di Feldin è coinciso guarda caso con la discontinuità forte di Cantù come con Matteo si diceva giustissima analisi colleghiamoci adesso con chi ci racconterà la partita fra Pauk Salonico e la Foxtown Cantù linea a Mario Castelli e Carlo Fabricatore si ciao Matteo ciao a tutti i telespettatori le immagini che vedete vi arrivano dalla Pauk Sports Arena di Salonico dove tra pochi minuti vi trasmetteremo in diretta la gara tra Pauk Salonico e Foxtown Cantù la seconda giornata di questa seconda fase nel gruppo J Cantù che vuole continuare a vincere dopo il grandissimo successo a sorpresa se vogliamo ha raccolto alla pianella contro il Kim Kimosca invece il Pauk che si ritrova quasi costretto a vincere perché ha perso il primo match contro il Limoges non può permettersi un passo falso interno quindi già una gara molto importante per tutte e due squadre nonostante sia solo la seconda giornata ma in un girone così breve con solo quattro squadre è logico che ogni partita conti tantissimo conta tanto per Cantù che ha dimostrato di essere incostante ha vinto contro il Kim Kim in casa in Eurocapa ha perso contro Roma in casa in campionato deve trovare un po' più di continuità giusto Carlo? ma sono d'accordo con te a questo punto speriamo che Cantù sia nella giornata giusta noi gli abbiamo visti di giocare più volte grandi partite abbinate a partite non di alto livello dopo aver battuto in casa il Kim Ki questa vittoria metterebbe una serie ipoteca al passaggio al turno facendo i debiti scongiuri una partita che verosimilmente si deciderà con gli attacchi perché tutte e due le squadre sono buone difese addirittura ottima quella del Panathinaikos che sta giocando una gran stagione soprattutto in Grecia dove è terza dietro alla coppia di Big ovvero l'Olympiakos e il Panathinaikos una partita che ovviamente vi racconteremo noi tra pochi minuti qui su Sport Italia quindi non cambiate canale perché tra poco ci sarà lo spettacolo dell'Eurocup con Pauk Salonico contro Fox Town Cantù perfetto grazie ad ora Mario Castelli a Carlo Fabbricatore adesso torniamo ad ora fra pochissimo dopo una breve fase pubblicitaria a Salonico per vivere le emozioni di questa partita e chiudiamo l'appuntamento quotidiano con Si Basket te lo faccio ringraziando i miei ospiti Sabino Palermo di Basket Inside buon pomeriggio grazie buon pomeriggio grazie a te Matteo grazie a tutti i nostri tre spettatori e grazie anche a Fabrizio Provera di Daily Basket ciao Matteo tutti in Sport Italia a vedere Cantù Salonico e allora tutti pronti per Pauk Salonico Cantù vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 20.30 altra sfida di Euro Cup anche quella molto importante Caesia Ragozza in casa contro la Virtus Roma a pausa pubblicitaria poi vogliamo Salonico grazie buon divertimento con il grande basket regato Sport Italia a 하in per Pauk Salonico